Se sul calcio vuoi essere aggiornato, su OneFootball tutto troverai, dalla Serie A alla Premiera e Ligano, ogni notizia e ogni incontro, live lì c'è. Regore Abisso assegnerà, prima controllo era anche il VAR, D'Ambrosio l'ha presa di mano, gioco di mano e da Villano, e poi gol assegnato su Rigor, triplice fischia un pareggio, 3-3 allo stadio Artemio Franchi, tifosi in pre-cant tutti i santi, e poi, e poi, e poi, e poi, e poi, e poi. Segnato anche Politano, porta le mani all'orecchio, per i Cicchiede più rispetto, ma Manchester lui era diretto. Gaia tira fuori l'iPhone, la VAR stavolta è stato un flop, si è incalzato anche Spalletti, per l'Inter son due punti persi. E poi, e poi, e poi, due punti persi così, due punti persi così, se la vi, e poi, e poi, e poi, e poi. Grazie 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 Grazie